La settimana della solidarietà. L'Agostino per la verità ci ha abituati a gesti di generosità. Ricordiamo lo scorso anno donazioni, insomma, anche in denaro attraverso la pentola della solidarietà. Stavolta c'è qualcosa di diverso, che coinvolge sempre però i dipendenti collaboratori, 130 dipendenti dell'azienda. Ovvero un gesto più concreto, non che quello di prima non lo fosse. C'è la donazione alimentare. Come è nata questa iniziativa, direttore? Sì, diciamo che il gruppo SEB è sempre molto attento a iniziative di solidarietà. Quest'anno abbiamo pensato a una raccolta alimentare per dire che la pentola senza gli alimenti è un oggetto veramente banale. Quindi quest'anno, grazie al contributo di tutti i nostri dipendenti, con una forte partecipazione, noi siamo riusciti a mettere insieme, qui se ne vede solamente una parte, di prodotti che verranno destinati poi al banco alimentare. Abbiamo spinto perché i lavoratori, spinto per modo di dire perché poi quando si tratta di solidarietà, i dipendenti dell'Agostina ci sono sempre. Per cui siamo contenti del risultato e l'RSU ha contribuito anche con una donazione propria. Domani, su base volontaria, un gruppo di dipendenti, stimato dai 15 ai 20 dipendenti, entrerà in stabilimento utilizzando la piattaforma logistica del sito ed effettuerà l'inventario, lo smestamento, la predisposizione dei pallets e il carico sull'autocarro aziendale in maniera tale che martedì 19 consegneremo tutti i beni raccolti al banco alimentare di Novara. Come dirigente del gruppo SEMB lei è rimasta sorpresa da questa iniziativa, da questa partecipazione? Veramente sono molto orgoglio della parte di Andrani di vedere che la scuola di Lagostina è generosa così. Quindi non è l'azienda oggi, sono dipendenti, per me tengo molto a questo perché l'azienda si mette indietro, sono loro che hanno fatto questo, ma sono molto fiero di vedere che questa azienda ha tanti valori dietro il fatto di fare buoni prodotti.